Dali, la capitale dell'India, ha raggiunto oggi i 10 milioni di abitanti. La città è divisa nettamente in due parti. New Delhi, in stile vittoriano, con larghi viali e tantissimo verde, e la impressionante e congestionata Old Delhi. Dall'antica porta mogul di Hajmeri Gate, ci si addentra nel quartiere musulmano, dietro la grande moschea. Ci si muove benissimo solo a piedi o con una delle migliaia di risho che hanno qui il loro habitat naturale. Vengo da queste parti da oltre 35 anni e mi è difficile dire che qualcosa è cambiato in modo apprezzabile. Negli anni 70 qui, era tutto esattamente così. Il mercato dei fiori, le botteghe dove si vende tutto, i piccoli banchetti dove si servono masala dosa o polli fritti inurenti salse piene di spezie. Old Delhi è di fatto una roccaforte dell'India autentica e in qualche modo vagheggiata da ogni buon viaggiatore che inevitabilmente si strugge nel perdersi in questo inquietante marasma. Ogni giorno, milioni di persone si riversano sui treni, autobus di linea, carretti, scooter, biciclette dove raggiungere il lavoro, i parenti, le feste, i romitaggi e le mete degli innumerevoli pellegrinaggi che si compiono in India. La rete ferroviaria indiana di britannica memoria raggiunge capillarmente e con grande puntualità ogni anfratto del grande paese. E le ferrovie sono un mondo a sé stante dove vivere un ulteriore viaggio all'interno del grande viaggio. Oltre un miliardo di persone, oggi abitano il subcontinente indiano che con gli attuali ritmi di crescita demografica sembra destinato in pochi lustri a superare la stessa Cina. Il paesaggio languido dell'India rurale corre lento e riposante all'orizzonte. La motrice, per lo più alimentata a gasolio, emette fischi e fumi come un serpentone magico. Le stazioni sono un brulicare di personaggi straordinari che offrono ogni genere di servizi, inclusi colorati e riconoscibili facchini capaci di portare carichi inverosimili. Le strade dell'India, sempre più trafficate, sono dei veri e propri videogames dove il rischio di incidenti è continuo proprio per l'estrema varietà di veicoli che vi si possono incontrare. Autobus, camion, biciclette, carretti e scooter risciò sono la norma. E sempre di più, le due ruote costituiscono il mezzo ideale per spostarsi velocemente e senza intoppi in questa pittoresca roulette russa. Fino all'epoca della stretta autarchia indiana, finita negli anni Ottanta, i veicoli a motore, circolanti in India, si potevano contare su due mani. Tra le due ruote, oltre alla comunissima Vespa, le cui catene di montaggio furono portate qui negli anni Sessanta, la vera regina della strada era la poderosa monocilindrica di origine britannica Royal Enfield Bullet 500, rimasta pressoché identica per mezzo secolo. Un suono, un look e soprattutto una filosofia di viaggio inconfondibile perfettamente aderente al modo di vivere e di spostarsi da queste parti del mondo. Da molti anni ho adottato la Bullet come mio veicolo ideale per viaggiare in India e con lei ho percorso migliaia di chilometri e itinerari straordinari, tra vallate a fose e picchi innevati, su e giù per gli stati malayani dell'India del Nord. Sulla strada per Aridvar, la città santa dove il fiume Gange esce dalle montagne per iniziare il suo corso in pianura, ci imbattiamo in uno degli emblemi di questo mondo in rapida mutazione. Una cava di argilla nel letto di un fiume vede la presenza contemporanea di mano d'opera umana, tra cui le leggiadre e incredibilmente eleganti donne indiane e animale, con questi nobili e silenziosi bufali in spietata e soccombente concorrenza con i primi trattori di proprietà di qualche padroncino, fautore di prossimi sconvolgimenti sociali ed economici. Al nostro arrivo notturno ad Aridvar, veniamo accolti dal clangore di un'orchestra nuziale che accompagna in un fracasso scomposto lo sposo. È poco più che un bambino e le sue nozze sono, assieme alle migliaia che si celebrano ogni giorno, una delle risorse vitali per questi musicisti e questi ragazzini che si caricano malinconici i grandi lampadari ambulanti. Cuore religioso di Aridvar, che significa Porta Santa, è il grande complesso di templi e gradinate chiamate Archi Perigat. Qui, un canale proveniente dal Gange, che scorre violento e limaccioso a poca distanza, è stato convogliato secoli fa in mezzo a questo groviglio architettonico di templi e santuari. La cerimonia del fuoco sull'Archi Perigat sembra oggi più affollata del solito. Del resto qui, tutti i pomeriggi, è un convenire di devoti per le sacre abluzioni e l'affido delle sacre fiammelle votive, come richiesta di grazia, al grande fiume. Dagli altoparlanti, ad un volume quasi fastidioso, si levano canti e invocazioni in tutta la vasta area del Ghat, mentre tutte le campanelle dei templi, come impazzite, vengono percosse all'unisono dalla folla esaltata. Mantra corali si levano a ondate. Un ragazzino vive immerso nell'acqua gelida e accompagna per un piccolo compenso le offerte un po' a largo per affidarle più facilmente alla corrente del sacro fiume. Fra la gente si aggirano personaggi muniti di varie tessere o distintivi, appartenenti a congregazioni religiose e induiste, che chiedono offerte ma rilasciano regolare ricevuta. È un delirio di suoni, fumi, fuochi, acqua che corre e che riflette i lumini, che continuamente prendono il largo accompagnati dalle devote mani dei sacerdoti. In mezzo al caos più totale si levano grandi fiamme liturgiche, che vengono agitate da quattro o cinque bramini in prossimità della riva del Gange. Fuoco e acqua, gli elementi della purificazione nel rituale induista, si incontrano da secoli e sempre allo stesso modo sulle gradinate di questi fiumi sacri. Ma è proprio all'origine di questi santi fiumi, che dissetano e benedicono un miliardo di individui, che si trovano i cosiddetti tirta, luoghi sacri, templi e santuari spesso costruiti ai piedi di colossali montagne, meta del chardam, il pellegrinaggio ai luoghi santi dell'induismo. Lassù vogliamo andare, ai confini col Tibet invaso e occupato dalla Cina negli anni 50. La vallata del Gange, ora, si stringe in gole e anfratti che lasciano sempre meno spazio alla possibilità di coltivare cereali e ortaggi, mentre sullo sfondo il Kedarnat Peak di 7000 metri si infiamma alla luce del tramonto. A Guptakashi arriviamo di notte, giusto in tempo per ascoltare il bramino del tempio nella sua preghiera serale. Sulle alte vallate, ai piedi dei picchi nevati dell'Himalaya, andiamo alla ricerca di luoghi ancora più remoti e nascosti. Un piccolo villaggio montano fa da cornice al meraviglioso tempio in stile shikara di Trijuji Narayan, che si narra abbia ospitato le nozze tra Shiva e Parvati. Qui, ogni tanto, coppie di fidanzati vengono a giurarsi amore eterno nella dolce e ingannevole illusione che rende uguali tutti gli esseri della Terra. L'istruzione in India è uno dei cardini fondamentali della società e la piccola scuola, che ospita diverse classi sotto la stessa rudimentale struttura, ci lascia allibiti e commossi per il senso di grande serietà e disciplina che si percepisce. La nostra presenza non deve distrarre i piccoli alunni, che hanno nei volti già l'espressione del loro essere adulti. Ancora più tenera e commovente, la visita al piccolissimo asilo, dove i bambini, stipati, aprono i loro sacchettini per il frugalissimo pasto. Inevitabile pensare alle problematiche delle nostre scuole. I finanziamenti, le mense, i bidelli, le segretarie, i docenti. Nei villaggi dell'Alto Gange, a parte le locande, non vi sono luoghi di svago come li intendiamo noi. Ed è proprio il tempio, come qui a Guptakashi, che è deputato alla funzione di aggregazione sociale. Il tempio è dedicato a Shiva e i bambini, che qui vengono a giocare, si emozionano in modi diversi nell'osservarsi nel mirino della camera. Qualcuno prega e chiede grazie attraverso offerte dinnanzi alle due fonti che simboleggiano le sorgenti del Gange e dello Yamuna, mentre il vecchio Sadu, all'ingresso del tempio, si fa la sua fumata più o meno rituale. Gli scenari quassù sono colossali e siamo schiacciati dalle dimensioni di queste montagne. Non solo più alte, ma più grandi in tutte le proporzioni. Qui tutto è gigantesco, mentre piante tropicali hanno come sfondo le nevi eterne. Sulla strada secondaria che abbiamo deciso di percorrere per raggiungere Josimat dopo una curva in una valle angusta e spettrale, assistiamo ad uno spettacolo incredibile. Centinaia di aquile volano lente e solenni, sopra e anche sotto il nostro punto di osservazione. Centinaia di aquile volano lente, sullo sfondo il Kedarnath Peak e tutto il santuario di montagne che circondano in Nandadevi, la montagna più alta dell'India. Da Josimat si sale ancora tortuosamente per una sessantina di chilometri tra anguste gole scavate dal fiume Alaknanda. Questo fiume, alla sua confluenza con il Bajirati a Dev Prayag, darà origine al Sacro Gange. Il santuario di Badrinath è sicuramente il più importante tra quelli che compongono il Chardam. Una volta, si ergeva isolato e variopinto sotto una parete di roccia, ma ora è letteralmente sommerso da brutti edifici, alloggi per pellegrini, luoghi di ristoro e una miriade di negozi e bancarelle che vendono oggetti religiosi e souvenir. Ciò nonostante, il luogo trasuda magia e spiritualità, frammiste ad una strana forma di allegria che pervade coloro che arrivano devoti fin quassù. Attorno al tempio c'è molta sorveglianza per il timore di qualche attentato. Qui attorno, l'Himalaya del Garval fa da sentinella al confine col Tibet e la magnifica piramide di quasi 8.000 metri del Nanda Devi sovrasta maestosa la vallata di Auli. A 5 chilometri da Badrinath finisce la strada carrozzabile e il villaggio di Mana è l'ultimo avamposto del mondo hindu. Da qui in avanti, solo sentieri fino agli alti valichi per il Tibet. In un piccolo tempietto sopra Mana, un gruppo di donne celebra una piccola ricorrenza religiosa. Si divertono moltissimo al nostro apparire un po' goffi e impacciati e a scambiare delle battute con noi. Nei loro volti si intravede già il tratto mongolico, ma sono di religione hindu e al loro desco hanno invitato un sadhu che consuma in disparte le sue lenticchie e riso. Poco distante, un altro sadhu vive di offerte in una grotta per tutto l'anno. Anche quando qui, la temperatura scende a 30 gradi sotto zero. Il mondo hinduista pullula di divinità e altrettante sono le feste religiose che costellano il calendario dell'India. Feste che spesso sono una grande occasione di incontro e svago. L'induismo è una sorta di feudalesimo religioso basato su una relazione umana e divina che da un lato eleva offerte e dall'altro dispensa grazie. Luoghi e regioni dell'India hanno le loro divinità particolari e sono caratterizzate da culti differenti che compongono il caleidoscopico universo religioso hinduista. Nel grande spiazzo in terra battuta di Kulu si riversa una marea umana mentre nei tempietti laterali si prega, si ufficia e si fuma. Nella valle di Kulu e di Manali una divinità molto popolare è la dea Adimba. Qui, uno dei festival più singolari dell'induismo il Dussera assume una liturgia ed una spettacolarità particolarissime. Già da giorni lungo le strade che portano a Kulu si incontrano piccole processioni provenienti dai villaggi limitrofi. Sono delegazioni che portano al Dussera le immagini della dea conservate nei piccoli templi minori della valle. Anche qui il significato ultimo del festival è la celebrazione del bene che trionfa sul male rappresentati dal leggendario eroe Rama e dal demone Pavana. Si calcola che per il Dussera arrivino a Kulu circa 200 statue di dei. Molti di quelli che trasportano le divinità sono forse sotto l'effetto di qualche sostanza e fa impressione vedere gli sguardi esaltati di questi ragazzi che vivono le festività religiose come i pochi momenti di gloria nella loro faticosa e reclusa esistenza tra le lontane vallate. Il grande spiazzo di terra battuta è ancora agibile ma si percepisce come un rumore di fondo che diviene quasi boato mentre una fiumana di gente proveniente da ogni dove inizia ad occupare qualunque angolo libero. Osservo il carro da vicino e noto che le pesantissime ruote di legno sono volutamente spigolose e irregolari come se il pur breve viaggio della dea Adimba dovesse costare penosi sacrifici. Sono come travolto da questa ritualità pagana ed arcaica paurosa ed esaltante allo stesso tempo. La religione buddista che era quasi sparita in India in seguito alle invasioni musulmane nel XII e XIII secolo ha ritrovato oggi nuovo fervore e grande diffusione qui al nord grazie alla presenza dei rifugiati del Tibet. Fuggiti al seguito del Dalai Lama nel 1959 dopo l'insurrezione di Lhasa contro i cinesi occupanti hanno stabilito qui ad Aramsala il loro quartier generale. Qui, nella piccola Lhasa il Dalai Lama e la sua gente mantengono in vita le tradizioni l'arte la medicina la religione del paese delle nevi. Il mio impegno per il Tibet e la sua causa data ormai qualche decennio e frequento assiduamente questo posto per attività e iniziative varie di sostegno ai profughi. Ultimamente sono stato quassù varie volte con amici medici per organizzare dei campi per la diagnosi e lo screening delle malattie del cuore. Malattie che pur non raggiungendo l'incidenza del mondo occidentale sembrano in crescita anche tra questi rifugiati. soprattutto tra le giovani generazioni. Sopra a Dharamsala c'è il Tibetan Children's Village e ogni anno per la festa della fondazione di questa istituzione che presiede all'educazione dei bambini tibetani il Dalai Lama arriva quassù tra canti e preghiere per incontrarsi con le generazioni che con grande fatica terranno in vita la cultura di questa straordinaria nazione. oggi poi è un giorno ancora più speciale perché sua santità è appena stato dimesso dall'ospedale di Delhi dopo un piccolo intervento. Quanto basta per riempire di lacrime di commozione la sua gente che oggi lo attende con particolare trepidazione. Dinnanzi al loro leader politico e spirituale i ragazzi del Tibetan Children's Village danno il meglio di loro stessi con saggi, sfilate, recite e canti, dimostrando tutta la serietà, il rigore e l'efficienza delle loro strutture educative. Ma in India ci sono terre che sono sempre state buddiste e che assomigliano molto e per mille aspetti al Tibet. Là siamo diretti, attraverso il primo valico importante sopra Manali. È il famigerato Rotang Pass, che significa mucchio di cadaveri a 4.000 metri di quota. Il nome è inquietante, ma la salita tra questi massi colossali e vertiginosi strapiombi è davvero un grande ed emozionante brivido. Ladakh, Zanskar, Spiti sono vecchi reami un tempo autonomi che appartengono già al Transimalaya e raggiungerli via terra significa percorrere le più alte strade carrozzabili del mondo. Sulla vetta del valico, il biancore accecante della neve e il paesaggio brullo dall'altra parte anticipano la desolazione del mondo tibeto-imalaiano. Viaggiare da queste parti in sella alla spartana Enfield diviene un'esperienza mozzafiato e in occasione di uno di questi viaggi ho deciso di condividere questa emozione con i miei figli. Siamo diretti nel remoto Spiti, una valle laterale del Ladakh, desolata e arida e dove la cultura buddista è ancora ben viva e vitale. Qui il Dalai Lama viene spesso a dare insegnamenti ai locali che convergono da ogni remota vallata laterale. Certo, non si riesce ad immaginare dove porterà una strada così ma è l'unica percorribile, impossibile sbagliarsi. Anche in motocicletta la sensazione di smarrimento è totale e finalmente si respira l'altrove. Le moto fanno il loro dovere ma qui la media di percorrenza non supera i 20 km all'ora. Lungo la strada si fanno rari incontri con pastori che ci riportano a immagini bibliche. E ci si può fermare negli scarsi e rudimentali luoghi di ristoro dove si può bere del tè e mangiare al massimo qualche omelette e un po' di verdura. Come scrisse Tucci negli anni 30 di queste regioni in questa terra desolata siamo come smarriti in un'afona solitudine. In alcuni momenti sembra di essere proprio diretti verso la luna. Difficile immaginare qualcosa di più desolante e allo stesso tempo esaltante. Ogni tanto capita l'inconveniente di una foratura rapidamente risolta dal fido meccanico Imran. La valle di Spiti si apre dopo il valico del Kunzumla 4.500 metri di altezza. Il paesaggio è soverchiante ed esolato. Solo bianchi monasteri, come questo bellissimo di Chi e i piccoli villaggi ai loro piedi ci ricordano che queste terre sono abitate. I sistemi di lavoro nei campi sono veramente primordiali e la battitura dell'orzo, come qui a Tabo viene fatta con l'aiuto di questi tre yak e un asinello. Sono sistemati per dimensioni decrescenti verso il centro e calpestano l'orzo. Le ragazze con le forche e l'aiuto del vento che qui ispira continuamente portano a termine il lavoro mentre si canta e qualcuno accenna a piccoli passi di danza. Il raccolto è una festa in ogni parte del mondo. In Spiti, oltre al famoso Tabo considerato un capolavoro dell'arte buddista himalayana vi sono diversi monasteri che conoscono un nuovo fervore religioso e come questo, inaugurato da pochissimo nella piccola capitale Khaza appartengono per lo più alla scuola tibetana dei Sakya. Le strade in Himalaya sono sempre piene di sorprese e a volte ci si parano dinanzi scene surreali. Qui, a pochi chilometri da Keilong vediamo una grande animazione su un ponticello. Tutti indicano in basso. Un piccolo furgone bianco è precipitato nel fiume in piena. Si sposta ogni tanto spinto dall'impetuosa corrente. L'autista è smarrito e terrorizzato. Di lì a poco una fune providenziale lo salverà. Il furgone conoscerà una diversa sorte. Ora la strada sale veramente di quota e si superano in più punti i 5.000 metri d'altezza. L'incontro con altri veicoli, pur rari, è spesso un'esperienza raggelante. Le geologie disegnano architetture folli, l'aria è trasparente. Siamo soli. Ogni tanto, il limo dei torrenti, portato sulla strada dalle brevi ma violente piogge dell'estate, si trasforma in una farina impalpabile che mette a dura prova le motociclette, che ne escono comunque bene grazie alla loro leggerezza. Attraversiamo un vasto altipiano, dove gli asini selvatici, i kiang, chiamati anche le zebra dell'Himalaya, corrono liberi. Siamo diretti verso la scuolina tibetana di Sundho, che da anni aiutiamo come associazione Italia-Tibet con varie iniziative. Non l'abbiamo mai vista e questa mi è sembrata una buona occasione per farci una visita. Eccola. È in un luogo incredibile, ai confini del mondo e oggi i ragazzi non ci sono. Sono a lei, al villaggio di Choglamshar per degli insegnamenti religiosi. Li troviamo in piena ricreazione tra canti e balli. Sono fantastici e dopo averci cantato un po' formalmente una canzoncina popolare tibetana, si uniscono al nostro intrattenimento musicale improvvisato per loro. è il nostro modo di comunicare e il direttore della scuola mi racconta che nei loro programmi ci sono anche degli insegnamenti di musica rock. Per noi, che suoniamo in una band dal nome tibetano, Rangzen, è un privilegio commovente esibirci per questi bambini. Si divertono e non resistono dal provare i nostri strumenti da viaggio. una chitarra, un'armonica e un tamburello. Ci danno convintissimi e penso ancora una volta che la musica potrebbe davvero affratellare il mondo. Le è la struggente capitale dell'Adak, una vera città centrasiatica a 3600 metri di quota e adagiata ai piedi del grande palazzo reale del Ghialpo, costruito nel XVI secolo. Quando venne qui la prima volta, alla fine degli anni 70, la città era priva di corrente elettrica e di fatto viveva in una sorta di Medioevo intatto. Con l'apertura del turismo nel 1975 e la susseguente crisi del Kashmir dovuta a tensioni separatiste e interreligiose, lei è di fatto divenuta la capitale turistica del Jammu Kashmir, surclassando la splendida Srinagar dove il turismo purtroppo è crollato con gravi conseguenze sull'economia locale. Molti Kashmiri hanno aperto esercizi e attività a lei e questa presenza assieme ai numerosi militari indiani nell'area ha causato non poche tensioni e squilibri. Fuori l'è, il paesaggio e l'ambiente si ricompongono e come qui a Cemre gli emblemi della vita quotidiana arcaica del vecchio Tibet ricompaiono composti e quasi incontaminati. Diversi monasteri hanno aperto un piccolo museo al loro interno e i monaci sembrano totalmente indifferenti alle presenze degli occasionali turisti. da diversi anni a lei hanno messo in piedi l'annuale Laddak Festival che rappresenta veramente un'occasione unica per poter vedere tutti insieme costumi danze rituali delle varie aree dell'Addak. Dalla strada principale sotto il Palazzo Reale si snodano lunghi cortei variopinti diretti al grande campo di Polo al limitare sud della città. Ci sono dignitari e quelli che contano vestiti con la tradizionale ciupa ancora usatissima da queste parti mentre le donne sfoggiano i pesantissimi e impressionanti copricapi chiamati Perak sembrano un po' delle teste di cobra e possono portare qualche chilo di turchesi assieme a decorazioni in corallo e gioielli d'oro ed argento. Si assiste a spettacoli di folclore locale e a rituali religiosi e ogni vallata porta orgogliosamente il proprio repertorio di costumi canti e danze e anche i monaci sistemati in un settore separato osservano curiosi e ben consci di costituire un riferimento per tutti i presenti. L'orchestra di tamburi e oboi scandisce in calzante il ritmo delle danze mentre cori apparentemente dissonanti contribuiscono allo stordimento generale. Come il Perak anche il curioso cilindro imbottito e privo della falda frontale è un copricapo tipico di questa terra. le danze si susseguono per tutta la mattinata mentre il giorno dopo nel cortile del monastero di Le i monaci di Trak Tok eseguono delle suggestive danze rituali i Cham indossando varie maschere tra cui queste in ottone dorato che raffigurano le Dakini principio dell'energia femminile nel buddismo tibetano. I Cham sono forse l'emblema della cultura tibetana. Sono momenti magici in cui il popolo dei fedeli ha un contatto quasi ravvicinato con il mondo della trascendenza spirituale. Anche se nell'Addaq non piove quasi mai può capitare di trovarsi sotto un violento e improvviso monsone che fa precipitare le temperature. Siamo a quasi 4000 metri e il nostro viaggio verso il Kashmir inizia proprio nelle peggiori condizioni. Dall'alto di un dosso appare la visione onirica di La Mayuru uno dei più antichi e spettacolari monasteri del mondo tibetano. Fondato nell'anno 1000 da Rinchen Zampo sovrasta la cosiddetta Valle della Luna ma il nome fu più appropriato. Qui meditò il grande maestro Marpa e una piccola grotta ne ricorda la presenza. La burrasca ha imbiancato le cime dello Zanskar con la prima neve. Anche sulla sommità del Fatulà la spolverata ha abbassato le temperature sotto lo zero. Procediamo lenti e schiacciati dalla maestà del paesaggio che ci circonda. Orzo maturo e picchi innevati a pochissima distanza. Un paese dai grandi contrasti. Contrasti che inevitabilmente arrivano anche nel profondo dell'anima di chi viaggia da queste parti. Il Buddha di Mulbeck costruito nel secondo secolo è il vero confine tra il mondo buddista e la terra strettamente musulmana del Kashmir. Ora dopo l'ultimo valico si dischiudono boschi e conifere e si arriva nella magica Srinagar la Venezia dell'Himalaya. Srinagar è una città unica al mondo. A 1800 metri di altezza è cresciuta su isolotti e canali su due laghi il Dal e il Nagin. Il traffico è affidato alle lente pittoresche sciccare specie di gondole che solcano silenziose e lievi i giardini e gli orti di cui vive parte degli abitanti di Srinagar. C'è tutta una vita sull'acqua a contatto stretto con incredibile. Grandi rapaci, martin pescatori, fiori di loto e ninfee. Stiamo remando lentamente verso la moschea di Azrat Bal che i locali chiamano orgogliosamente il nostro Taj Mahal. attorno alla moschea un grande giardino regala un po' di frescura ai bambini che giocano mentre i genitori sono all'interno assorti in preghiera. Eccoli, è il momento dell'uscita. tutto intorno alla moschea si sviluppa un quartiere mercato. Alcuni pasticceri si improvvisano attori. ecco i grandi nan, pane profumatissimo tipico di tutta l'Asia centrale. Ancora vivo in Kashmir l'artigianato. Cesti di vimini di varie fogge e dimensioni sono usati abitualmente per fare la spesa specialmente verdure e vivande. Siamo soli e un po' smarriti ma l'atmosfera è di grande cordialità. Certo, dopo 25 anni trovo la città pesantemente segnata dalle tensioni politiche. Non si vede un turista se non qualche indiano. Posti di blocco ovunque, soldati armati, blindati, reticolati. Inutile far finta di nulla. Srinagar non è più quella di un tempo. e la popolazione è sfinita e logorata da queste tensioni. Il cuore della città è la grande moschea. Decido di entrare senza pormi tanti problemi. Il gioco delle fontane, i fiori, i prati ben curati, la gente assorta in preghiera. guardo queste persone e cerco di capire la loro visione della fede e del rapporto con Dio. Poco distante mi fermo in un'altra piccola moschea dove un artista sta completando il restauro del portale dipinto secondo la locale tecnica del paper meci. È un piccolo capolavoro di raffinatezza e riprendo estasiato incurante degli sguardi decisamente poco incoraggianti. è l'alba e mi lascio trasportare in barca al Vegetable Market era uno degli appuntamenti tradizionali a Srinagar il mercato della verdura e dei fiori galleggiante si intende Nel buio prima del sorgere del sole ci si muove furtivi tra ninfee e fiori di loto fino ad approdare in una radura lacustre dove pian piano affluiscono da ogni dove vecchie affusolate sciccare cariche di ogni bendidio vegetale dal silenzio della notte in poco tempo è tutto un brusio di scambi e contratti con la frutta e le verdure che passano da una barca all'altra ecco qui davvero non è cambiato nulla è l'ultima immagine che mi porto dentro di questo lungo peregrinare nel nord della grande india mi assalgono ricordi e lo struggimento della vita che scorre da un passato sempre più lungo e verso un futuro sempre più incerto qui adesso il tempo si è fermato non è l'ultima Autore dei sovrapposti Autore dei sovrapposti